I dati di oggi ci segnalano un calo delle terapie intensive e dei ricoverati con sintomi. I casi totali sono infatti 199.414 con un incremento rispetto a ieri di 1.739 persone, mentre i dimessi guariti sono 1.696 in più rispetto a ieri per un totale di 66.624. Prosegue inoltre l'alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi infatti il totale delle persone attualmente positive è di 105.813 con un calo rispetto a ieri di 290 pazienti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Di questi 1.956 sono in terapia intensiva, 53 in meno rispetto a ieri, 20.353 sono i ricoverati con sintomi con una diminuzione di 1.019 pazienti rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, per un totale di 83.504, pari al 79% del totale di positivi. Il dato dei deceduti è di 333 oggi.